orietta berti ovunque in tv tra rai e mediaset la svolta è sicuramente arrivata al festival di san remo 2020 e con la successiva hit mille cantata con fedez e achille lauro che l'ha avvicinata ad un pubblico più prima di approdare al grande fratello vip dove è opinionista insieme a sonia bruganelli la cantante è stata il cantante mascherato fuori dal coro the voice senior quelle brave ragazze lusignolo di cavriago si dà da fare anche con i suoi concerti ed esibizioni live in giro per l'italia ed è presente anche nelle librerie orietta berti ha da poco pubblicato il libro nella mia cucina le ricette di una vita in cui consiglia i lettori i piatti della sua tradizione familiare in più in questo periodo sta promuovendo il cofanetto la mia vita è un film e una serie di cover per cellulari realizzati con la sua immagine insomma orietta berti più attiva che mai anche se sono in molti soprattutto sui social network hanno invitato l'artista ad andare in pensione e lasciare spazio a colleghi più giovani a far discutere è stata soprattutto la sua partecipazione come opinionista al gfv partecipazione che però resterà un caso isolato il prossimo autunno la berti tornerà che tempo che fa di fabio fazio uno dei primi a credere nel suo talento televisivo in un'intervista al settimanale confidenze orietta berti ha fermato con convinzione la mia è una vita complicata ma di sicuro non voglio fermarmi anzi sono già piena di impegni per i prossimi due anni quindi alla pensione non ci penso insomma con buona pace degli haters orietta berti resterà sulla cresta dell'onda ancora per parecchio tempo oltre alla televisione orietta berti spopola anche sui social network e in particolare su instagram stando ad una classifica stilata dalla stessa piattaforma è al quarto posto dei personaggi italiani più chiacchierati sicuramente a far discutere le sue opinioni al grande fratello vip seppur in alcuni casi piuttosto